Spero che ti piaccia. Ha buon'aria fantastica. E anche tu. Ma hai mangiato un polpettone così buono. Ma come lo fai? Il segreto è di usare pomodori freschi, non in scatola. E per dargli più sapore ci metto un po' di prosciutto alla fine. Ah. Se lo sognano nei ristoranti di New York. Facciamo un brindisi? Un brindisi? Certo, a miseri. Ti verso un po' di vino. Nonno. A miseri. Aspetta. Manca qualcosa. Non hai del candelo? Non lo so, io credo di sì. Vado a vedere. Hai studiato arredamento o hai semplicemente buon gusto? Oh, smettila. Ho preso le cose qua e là, dove capitava. Beh, è una casa che ti somiglia. Lo credi sul serio? Oh, sì, certamente. Senti, se non le trovi non fa niente, era soltanto un'idea. Stai scherzando? Se qualcuno mi avesse detto che un giorno avrei cenato a lume di candela con Paul Sheldon in casa mia, gli avrei consigliato di andare a farsi vedere da un bravo psichiatra. Vanno bene? Sono perfette. A Miser e a Annie Wilkes, che l'ha riportata in vita. Oh, Paul, ho la pelle d'oca ogni volta che ci ripenso. Oh, no. Oh, Dio mio, che cosa ho fatto? Oh, quanto mi dispiace, Paul. Ho rovinato il tuo bellissimo brindisi. Riuscirai a perdonarmi. Aspetta, me ne verso un altro. Facciamo finta che non sia successo. A Miseri. A Miseri. A Miseri. A Miseri. A Miseri. A Miseri. Grazie a tutti.